benvenuti una nuova puntata con la finestra su piazza affari saluto i due miei ospiti con cui oggi parleremo di borsa ai massimi tassi che è arrivato il momento di tagliare parleremo anche però di crescita e di trimestrali una ben trovata a sara silano di morningstar che è collegata con noi buongiorno a tutti e un buongiorno e un benvenuto a luca mori di algebris investment ben trovato buongiorno a tutti sono passati ormai quattro anni dallo scoppio della pandemia i mercati di tutto il mondo stanno vivendo un momento d'oro tokyo ha aggiornato il record dal 1989 ma i top l'ha raggiunto sia wall street sia molti indici del vecchio continente piazza affari per intenderci è tornata ai massimi da 15 anni fa ai livelli pre crisi lehman guardando invece lo spread è sceso sotto quota 120 punti è il minimo da due anni un segnale importante un segnale che torna a essere appetitoso il debito globale compreso quello italiano questo vuol dire che gli acquisti tornano a far salire i prezzi e rendimenti scendono c'è poi il tema dei tassi che ormai è un tormentone ma a questo punto dovremmo esserci a un allentamento della politica monetaria da parte della fed e della banca centrale europea il mese giusto per il taglio dei tassi è indicato a giugno ormai l'obiettivo di un'inflazione al 2 per cento alla portata di mano e di conseguenza è arrivato il tanto atteso momento dei tagli partirei con luca mori concentrandomi sull'italia perché il tema dell'italia è anche la crescita nelle scorse settimane la commissione UE ha limato le previsioni ecco cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi si è vero la commissione UE ha leggermente limato le aspettative di crescita noi comunque ci aspettiamo almeno intorno all'1 per cento riteniamo che sia un dato ancora abbastanza supportive per i mercati azionari certo come hai detto tu inizialmente sono sui massi hanno fatto tanto da inizio anno hanno fatto tanto l'ultimo anno e mezzo quindi magari una fase laterale è anche possibile però riteniamo che le valutazioni siano ancora appetibili per questa asset class ci spostiamo sui listini azionari in particolare su piazza affari con Sara Silano perché le trimestrali hanno un po' scandito l'andamento dei due indici Morningstar il sole 24 ore il primo si focalizza sui 40 big per capitalizzazione mentre il secondo racchiude i titoli più virtuosi in termini ISG ebbene come è andato questo mese però a questo punto riusciamo anche a fare un bilancio dei primi tre mesi del 2024. L'ultimo mese è stato un mese in cui l'indice tradizionale ha battuto quello sostenibile il primo è salito di quasi il 7% il secondo di quasi il 5%. A dettare il trend sono state le trimestrali e le singole storie societarie. All'interno dell'indice tradizionale abbiamo visto come grandi contributor le banche in particolare Intesa San Paolo e Unicredit ma anche Stellantis e Ferrari tutti con rendimenti superiori al 10%. Chiaramente il tema delle cedole dei dividendi è stato un tema chiave a Piazza Affari nell'ultimo mese però ci sono anche stati alcuni titoli invece che hanno detratto performance e nell'indice principale abbiamo visto Telecom Italia e anche Nexi che hanno pesato appunto sull'indice principale. Se andiamo a vedere l'indice ISG che comunque è stato positivo è stato trascinato dal rally di Saipem anche con la pioggia di giudizi positivi dopo i conti di Intesa nuovamente e Buzzi Unicem quest'ultimo che ha aggiornato i suoi massimi storici a Piazza Affari. Però l'indice ISG è stato particolarmente penalizzato nuovamente parliamo di Telecom Italia ma anche da Ferragamo tutto il settore del lusso ancora molto in movimento e Piaggio. Cosa dire sul trimestre? Nel trimestre che sta per finire l'indice principale dei titoli principali ha sovraperformato quello ISG salendo di circa il 15% contro l'8% e i protagonisti sono stati esattamente quelli che abbiamo appena menzionato quindi le banche nell'indice principale insieme a Ferrari e Stellantis e nell'indice ISG Saipem in Tese San Paolo ancora al lusso e qui troviamo protagonista in positivo Moncler. Ecco come dicevi le trimestrali hanno un po' scandito il ritmo anche dei titoli a Piazza Affari però c'è un indice che è quello delle PMI che se andiamo a vedere l'andamento ha sottoperformato. Ecco torniamo con Luca Mori. Come mai ha sottoperformato e ci sono dei margini di recupero? L'indice delle PMI ormai è un anno e mezzo che sottoperforma e che è una cosa abbastanza diciamo inusuale perché storicamente invece anche guardando un po' con gli ultimi vent'anni era sempre stato uno dei best performer. Secondo noi ci sono state una serie di motivi, in primis il rialzo dei tassi di interesse che diciamo solitamente fa male all'asset class delle piccole medie imprese dove sono presenti più titoli long duration di crescita e correlato a rialzi ai tassi di interesse c'è stato anche il forte riscatto su tutti i fondi PIR e diciamo tutta la parte che erano raggiunti cinque anni dei piani di accumulo e quindi potevano essere riscattati a tassazione diciamo senza pagare le tasse e questo chiaramente ha portato più di 2 billion di deflussi su questa asset class e chiaramente ha impattato fortemente sulle performance bossistiche. A livello di valutazione noi vediamo che le piccole e medie imprese sia europee che italiane sono ai minimi storici di valutazione rispetto alle large le italiane in particolare sono ai minimi storici rispetto anche alle large europee con un 15% di sconto e se ampliamo la valutazione titoli US rispetto a Europa vediamo che anche l'Europa è ai minimi rispetto agli US quindi diciamo a livello di valutazione ci troviamo in una fase che ci viene da pensare che da qui ai prossimi due o tre mesi bisogna accumulare di più le piccole medie imprese. Grazie, grazie a Luca Mori e a Sara Silano, vi do appuntamento alla prossima puntata con La Finestra su Piazza Affari.